Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, quest'oggi torno a parlare del fenomeno Greta Thunberg. Non lo faccio da tifoso né da cerimo nemico, anche perché non sono assolutamente coinvolto emotivamente in questa faccenda, ma vorrei, assieme a voi, ragionare su alcuni aspetti, sia che non avevo trattato nell'ultimo video, sia che sono emersi in questi giorni. Chi c'è realmente dietro il fenomeno Greta? Sentiremo in merito anche il pensiero di esperti e di uomini di potere, come per esempio Putin. Partiamo subito da quello che ha detto l'ex ministro Giulio Tremonti. Se uno pensa che Greta Thunberg sia un fatto spontaneo e naturale, forse non ha idea di quale macchina politica e mediatica sta dietro Greta. Non è mica Giovanna d'Arco. È un fenomeno complesso, con un investimento di capitali straordinario alle spalle, ed è il tentativo di ridisegnare la struttura industriale fatta con la globalizzazione. Quindi, secondo Tremonti, che in proposito di poteri forti la salunga, dietro la giovane ambientalista ci sono gli uomini più potenti ed influenti della Terra, con l'obiettivo, per usare le sue parole, di ridisegnare la struttura industriale fatta con la globalizzazione. In una scrupolosa e ben documentata analisi pubblicata sul New Eastern Outlook, lo studioso William Ingdall, consulente e docente di rischio strategico, va al cuore del fenomeno Greta. Ingdall cita The Manufacturing of Greta Thunberg, libro pubblicato dall'attivista per il clima canadese Cory Mornistar, che prova a smascherare il blef del climaticamente corretto, secondo cui l'attivismo di Greta è legato ad Al Gore, presidente del gruppo Generation Investment. Il partner di Gore, David Blud, è un ex funzionario di Goldman Sachs ed è membro della Task Force sul clima, presieduta dal miliardario Michael Bloomberg. Greta Thunberg e la sua amica 17enne americana, Jamie Margolin, sono state entrambe nominate come consiglieri speciali della ONG svedese We Don't Have Time, fondata dal suo CEO Ingmar Renzog, l'esperto di marketing e pubblicità che per primo ha diffuso sui social gli scioperi di Greta, di cui vi avevo estesamente parlato nel precedente video. Renzog, dicevamo, è membro dell'Organizzazione per la Realtà Climatica di Al Gore e fa parte della Task Force per la Politica Climatica Europea. Il Climate Reality Project di Al Gore è a sua volta partner di We Don't Have Time di Ingmar che strano intreccio, vede gli uomini di Goldman Sachs sempre presenti nelle vicende che contano. Ma non è finita qui. We Don't Have Time è emanata da un'altra entità, la Global Shapers, che lavora, guarda caso, per il Forum Economico Mondiale tenuto a Davos. Una e l'altra entità sono finanziate da una società svedese, la Global Utmening, cioè sfida globale, fondata proprio dai due miliardari svedesi, Ingmar Renzog, che ne è il direttore, e Cristina Persson, la Presidente, che vi hanno chiamato altri miliardari e industriali a farne parte. Oltre quanto detto nel precedente video, è doveroso aggiungere che Ingmar Renzog è uno speculatore finanziario. Non appare interessato ai temi climatici se non dopo aver scoperto che l'industria mondiale del cambiamento climatico vale ben 15 mila miliardi di dollari l'anno, secondo la valutazione del Climate Change Business Journal. Renzog ha infatti modellato il suo Global Utmening sul Climate Reality Project del suo amico Al Gore, l'ex vicepresidente USA sotto Clinton. E' da tempo profeta del riscaldamento globale e quindi paladino della tassa mondiale sul carbonio, per la quale ha anche ricevuto il premio Nobel. Se poi vi chiedete da chi Al Gore abbia ereditato la sua passione per l'ambiente, la risposta sta in un nome, Erron. Vi ricordate la società Erron? Prima di piombare in una delle più criminali bancarotte della storia americana, rovinando migliaia di azionisti, la Erron era una compagnia del gas che però faceva i suoi superprofitti speculando nella finanza creativa. era diventata un campione del mercato dei derivati di gas, elettricità e dal 1990, quando una nuova legge ecologica limitò il volume di inquinanti che poteva essere emesso da una centrale a combustibile fossile, la Erron aveva creato il mercato dei crediti di emissioni di zolfo. Chi ne produceva meno vendeva il suo credito residuo a chi ne metteva di più. La Erron era il primo trader di un business che valeva già 20 miliardi di dollari l'anno. I suoi dirigenti hanno lavorato a stretto contatto con l'amministrazione Clinton per elaborare il famoso protocollo di Kyoto e poi farne un trattato internazionale vincolante. Inoltre, per forgiare l'opinione pubblica al nuovo credo, dal 1994 al 1996 la fondazione Erron ha contribuito con quasi un milione di dollari alla Nature Conservancy, il cui progetto sul cambiamento climatico promuove teorie sul riscaldamento globale. Erron ha così elargito quasi un milione e mezzo di dollari ad altri gruppi ambientalisti che fanno propaganda della necessità di ridurre il riscaldamento globale. Ha poi corrotto scienziati per ottenere quello che voleva. Per quanto riguarda invece Christina Persson, l'altra fondatrice di Global Utmaning, che finanzia, come dicevamo, le due società We Don't Have Time, l'ONG di cui Greta è stata nominata consigliere speciale, e Global Shapers, è l'erede di una fortuna industriale ed è ex vice governatore della banca centrale svedese, eppure viene definita una sensitiva della New Age, che ha parlato pubblicamente delle sue vite precedenti e addirittura dice di comunicare con i defunti. Tra il 2014 e il 2016 è stata anche ministro per il futuro nel governo socialdemocratico di Stefan Lofven. Altre informazioni sulla Persson le trovate nel precedente video su Greta. Secondo l'attivista Morningstar, citato prima, il complesso industriale non-profit può essere considerato l'esercito più potente del mondo, impiegando miliardi di dipendenti tutti interconnessi. Le campagne odierne, finanziate dalla oligarchia dominante, possono diventare virali nel giro di poche ore, instillando pensieri e opinioni uniformi, che gradualmente creano l'ideologia desiderata. Questa è l'arte dell'ingegneria sociale. Questo, ad essere onesti, non significa per forza di cose che Greta Thunberg sia manovrata o possa essere un prestanome di qualche miliardario, ma d'altronde sarebbe estremamente ingenuo pensare che una campagna mediatica di queste dimensioni globali sia del tutto spontanea o nasca nel nulla. Su come sia nato questo fenomeno, oltre alle informazioni del precedente video su Greta, vi è da aggiungere che nel maggio del 2018 il primo quotidiano svedese, Svenska Dagbladet, lancia un concorso per il miglior tema sull'ambiente e la giovane Thunberg si aggiudica il secondo premio. A questo punto, un militante climatico-ecologico di nome Bo Thoren, leader del gruppo Fossil Free Dalsland, avvicina i vincitori del concorso con la proposta di insegnare uno sciopero scolastico per il clima. Greta è la sola ad accettare e si guadagna quindi l'arruolamento. Poi, la sapete, la storia di Greta prosegue con gli scioperi dalla scuola il venerdì quando si reca davanti al Parlamento svedese. Lo studioso Ingdal ha aggiunto, l'immagine che emerge è il tentativo di una riorganizzazione finanziaria dell'economia mondiale, usando il clima, per cercare di convincere la gente comune a compiere sacrifici indicibili per salvare il nostro pianeta. Qui, lo studioso è concorde con Tremonti, quando dice che è in atto il tentativo di una riorganizzazione finanziaria dell'economia mondiale, usando il clima. Amo il pianeta Terra, cerco in maniera ragionevole di non inquinare, ma non ho le fette di salame sugli occhi e quindi anch'io vedo quello che vedono Tremonti ed Ingdal. Ma vi è un altro svedese dedito alle cause ecologiste, cioè l'europarlamentare Anders Wickman, membro influentissimo del Club di Roma, proprio quella potente organizzazione che nel lontano 1972 finanziò uno studio del MIT, in cui si dimostrava con certezza scientifica che entro trent'anni lo sviluppo economico dell'umanità avrebbe esaurito le risorse naturali. Previsioni ovviamente tutte smentite dai fatti, ma il libro I limiti dello sviluppo resta una pietra miliare dell'emergenza ambientale come sindrome psichica capace di contagiare le masse. È giunto il momento di sentire il parere autorevole di Enrico Mariutti, ricercatore e analista in ambito economico ed energetico, nonché fondatore della piattaforma di microconsulenza Get Consulting e vicepresidente dell'Istituto Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie. Al di là delle intenzioni e della retorica, Greta Thunberg si fa portatrice di un'ideologia reazionaria e paternalistica che trasforma prospettive universali come la solidarietà, l'equità o la giustizia in patenti che i migliori attribuiscono di volta in volta agli argomenti che ritengono degni. La giovane non affronta mai il tema della giustizia sociale nei suoi interventi, ma fa frequenti riferimenti alla distribuzione delle risorse su scala globale, rilanciando un tema caro agli intellettuali europei, il terzo mondismo. Greta, spiega l'analista, ricorda che una piccola minoranza della popolazione mondiale consuma la larga maggioranza delle risorse, ma dimentica che oramai più del 60% delle emissioni di gas climaalteranti proviene da economie emergenti con la Cina, che raggiungerà probabilmente il picco entro il 2030 di emissioni di CO2 e l'India presumibilmente durante il decennio successivo. Di conseguenza, sottolinea Mariutti, anche se le economie avanzate azzerassero le loro emissioni entro il 2030, come auspica Greta, incurante o ignara delle ripercussioni sociali, i target per il contenimento dell'aumento della temperatura entro i due gradi non sarebbero raggiunti. Tuttavia, auspicare che le economie emergenti taglino le emissioni di gas climaalteranti significa auspicare che si blocchi il meccanismo attraverso cui centinaia di milioni di persone stanno fuggendo dalla povertà, con conseguenze umanitarie, sociali e politiche potenzialmente catastrofiche. Una donna che accompagna la Thunberg alla maggior parte degli eventi pubblici è l'attivista climatica tedesca Luisa Marie Neubauer. La Neubauer è anche ambasciatrice della gioventù della Fondazione One, un'organizzazione di lobbying internazionale finanziata da, udite udite, George Soros, Bill e Melinda Gates, Bono e altri di cui vi dirò tra breve. Secondo il sito web One, One è nato nelle conversazioni tra Bill Gates e Bono nei primi anni 2000 circa la necessità di informare meglio gli americani sull'estrema povertà nel mondo. Insieme a Melinda Gates, Bobby Shriver, George Soros, Ed Scott, Bob Geldof e Jamie Drummond, hanno creato un'organizzazione di difesa contro la povertà chiamata DATA, che si è concentrata nel diffondere i propri messaggi tramite celebrità e altre persone influenti per sollecitare i leader mondiali ad agire su specifici problemi di sviluppo. Ma chi finanzia One Campaign? Nessun mistero, tutto trasparente alla luce del sole. Tra gli altri troviamo Bank of America, Bill e Melinda Gates Foundation, Bloomberg Philanthropies, Bono, Cargill, Coca-Cola, Google, Open Society Foundation e Open Society Policy Center di Soros. Inutile soffermarsi su Soros e Gates. Parliamo invece della passione per l'ecologia degli altri principali finanziatori della fondazione One. Green Me aggiunge Coca-Cola in testa alla lista delle sei multinazionali coinvolte nello schiavismo e nello sfruttamento del lavoro minorile. Ah, complimenti, non c'è che dire. Li riconoscerete dai loro frutti, disse l'uomo più saggio del mondo. E non è finita qui. Addirittura, in un articolo del Daily Mail, che vedete nell'immagine, la società Cargill, tra i primi finanziatori di One Campaign, viene definita la peggiore società al mondo per inquinamento ambientale. E chi siede nel tavolo di comando di questa One Campaign? Il nome del primo ribelle al sistema, ve lo diamo noi, l'ex primo ministro britannico, a emissioni zero, David Cameron. Ah, che lunga lista di filantropi interessati all'ambiente. E così, in brevissimo tempo, Greta Thunberg si è ritrovata a parlare nelle sedi mondiali più prestigiose, con tutti i leader del mondo ai suoi piedi. Tutti? Beh, non proprio tutti. Ad esempio fa eccezione Vladimir Putin, che non si è commosso più di tanto e ha evitato le solite parole ipocrite di circostanza, frenando i facili entusiasmi. Durante un forum sull'energia a Mosca, il presidente russo ha commentato anche il discorso della sedicenne ambientalista svedese alle Nazioni Unite. Potrei deludervi, ma non condivido l'eccitazione generale per il discorso di Greta. Nessuno ha spiegato a Greta che il mondo moderno è complesso e diverso. Le persone in Africa o in molti paesi asiatici vogliono vivere allo stesso livello di ricchezza della Svezia. Ma quando qualcuno usa bambini e adolescenti per interesse personale, merita solo di essere condannato. Sono sicuro che Greta sia una ragazza gentile e molto sincera, ha detto Putin. Ma gli adulti devono fare di tutto per non portare adolescenti e bambini in situazioni estreme. Dovrebbero proteggerli da emozioni inutili che possono distruggere la persona. Questo è quello che voglio dire al riguardo. In Russia non solo abbiamo firmato e stiamo completando il processo di attuazione dell'Accordo di Parigi, stiamo anche facendo una serie di passi all'interno del paese al fine di limitare le emissioni, al fine di sviluppare le fonti alternative. Lo facciamo anche con strumenti di regolazione fiscale, creando preferenze per lo sviluppo di tipi alternativi di fonti energetiche. Sviluppiamo il gas come l'idrocarburo più puro. Nonostante la Duma abbia invitato Greta a pronunciare un discorso davanti ai giovani russi, con la sedicenne svedese che potrà scegliere la data del suo intervento al Parlamento di Mosca. Putin ha così voluto sgonfiare la rilevanza dei suoi appelli mediatici. Concludiamo con le parole di un consigliere economico del primo ministro australiano fra il 2013 e il 2015. Tony Abbott, che ha detto chiaramente «Il cambiamento climatico è un imbroglio gestito dalle Nazioni Unite per mettere fine alla democrazia ed imporre un regime autoritario. Il riscaldamento del pianeta è un'esca per installare il nuovo ordine mondiale». Non trovate strano che questa sia la prima rivoluzione contro i potenti, sponsorizzata dagli stessi potenti, da Bill Gates a Christine Lagarde, passando per Barack Obama, Al Gore e Soros. Sì, il nuovo ordine mondiale è servito! Carissimi amici, iscrivetevi numerosi al canale YouTube, Dentro la Notizia e assieme proseguiremo nell'approfondimento di temi che possono influire sul nostro futuro. Non abbiamo la pretesa di avere la verità in tasca, ma lo scopo di questo canale è proprio di scavare a fondo nelle losche trame dell'elita nostro danno. Conoscerle può aiutarci ad evitare di cadere nelle loro trappole. Aiutateci a diffondere il video il più possibile e se apprezzate il lavoro che stiamo facendo a beneficio di tutti, potete sostenerci con una donazione che ci permetterà di proseguire. Un abbraccio dal vostro Roby! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!